Mozei ragazzi, appena finita l'amichevole della nostra Juventus, la nostra Juventus che ha vinto 3-0 contro la Juventus ante 23, vittorie che ci sono portate a casa grazie ai gol di Dybara, al gol di Morata e al gol di Ramsey. Allora ragazzi, sono visti veramente delle belle cose in avanti, in fase offensiva abbiamo costruito veramente delle belle azioni, belle azioni, però dietro ci dobbiamo registrare in difesa, perché a volte commettiamo certe cazzate, ma certe cazzate, quindi difesa ci dobbiamo sistemare bene, perché da domenica è dura, da domenica con l'Udinese in Friuli è dura. Allora ragazzi, sistemiamoci bene anche dietro, facciamo bene entrambe le fasi ragazzi, sia la fase offensiva che la fase difensiva. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, cazzo! Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buona serata, iscrivetevi al canale di Youtube e seguitemi anche su Instagram su ZebraBianconera95 e seguitemi anche sulla pagina Facebook di ZebraBianconera. Fino alla fine, forza Juventus, buona serata a tutti ragazzi, ciao!